Innanzitutto è una squadra che quando arrivano i problemi la prima cosa da togliere è togliere la paura perché la paura di sbagliare è quello che fa sbagliare più di tutti e ogni tanto ci dimentichiamo che la palacanestra è un gioco ed è un divertimento è logico che a questi livelli ci sono troppo interesse e pressioni però se si ritorna a vedere la palacanestra con un gioco e di tutto è una cosa positiva non si può giocare la palacanestra con la paura punterò di far giocare meglio i giocatori che ho perché penso che possano dare qualcosa di più e poi vediamo un pochettino come sta Benford e ci stiamo cercando di vedere con la società un altro giocatore che possa dare una mano sicuramente certe volte queste cose qui danno anche più stimolo poi voglio dire io non è che abbia mai allenato squadre di altissimo livello ho sempre allenato squadre di medio livello è logico che Pesaro è una squadra di livello per il suo passato che ha avuto di Scudetti però gli Scudetti mi portano anche cose tristi di Pesaro però voglio dire quando una società così dura nel tempo attraverso sia Scudetti, Vittori e anche Brutti Perieri vuol dire che c'è passione dove c'è passione bisogna trasportarla anche ai giocatori mi porta la voglia di allenare sicuramente il rapporto con Ario sappiamo benissimo lui sa benissimo che tipo di allenatore che io sono il mio comportamento con i giocatori probabilmente serviva un qualcosa che lui ha visto in positivo in me speriamo che poi i risultati lo diano spero che le città di mare mi portino quello che mi hanno dato alle altre città di mare tipo Capodorlando Sassani non è sul mare ma io stavo da Alghero perciò voglio dire qualcosa di buono il mare me l'ha trasmesso grazie grazie